Stamattina il questore di Caltanissetta Emanuele Ricifari, nel corso di una conferenza tenuta sin dalle 10.30 in questura, a cui hanno partecipato il vicequestore Francesco Bagnere, responsabile dell'ufficio stampa sostituto commissario Salvatore Falzone, ha incontrato la stampa per presentare i dati consuntivi dell'attività istituzionale svolta dalla Polizia di Stato nella provincia. La provincia di Caltanissetta sembra avere due volti, dove i reati si consumano in luoghi privati per l'80% in ambienti domestico-familiari, luoghi di lavoro, luoghi di aggregazione sociale, e poi dall'altro i danneggiamenti di cose pubbliche e private, soprattutto nell'area gelese. E se la città di Caltanissetta ha una condizione che viene definita come soddisfacente, è invece la zona del sud-est dell'intera provincia, su cui il lavoro della magistratura e delle forze di polizia è continuo e costante. È un consuntivo di quello che è stata l'attività, perché è giusto farne un bilancio e comunicarlo ai cittadini. I dati che emergono sono i seguenti. L'attività di polizia è aumentata nel conseguimento di risultati, è aumentata quella di polizia da strada, sul controllo del territorio, è aumentata leggermente quella di polizia giudiziaria, è aumentata in maniera consistente quella di polizia amministrativa, quindi il rilascio dei documenti necessari ai cittadini. E' stata particolarmente impegnativa quest'anno l'attività dell'Ufficio Immigrazione e proprio al personale, ai dipendenti dell'Ufficio Immigrazione voglio riservare il mio grazie a tutti, ma a loro in maniera particolare. Determinante è il ruolo dei cittadini che attraverso famiglie, parrocchie e cosiddetti agenti intermedi, collaborando attivamente con il lavoro della polizia, riescono a contrastare le forme meno civili del quieto vivere. Molte le operazioni di polizia che in quest'anno hanno invece determinato risultati importanti sul territorio. Mi vengono in mente le operazioni legate al caporalato, legate alla falsificazione di documenti e presenze in Italia, al reddito di cittadinanza conseguito in maniera impropria o impropriamente utilizzato. Il plauso del questore è andato a tutte le forze di polizia del territorio stesso, dal comando dei carabinieri, la guardia di finanza, la polizia locale e anche alle donne e gli uomini della polizia di Stato. Un plauso ulteriore all'Ufficio Immigrazione che ha effettuato un lavoro molto attento. I dati infatti rispetto a quelli del 2021 vedono ben 171 decreti di espulsione e 135 ordini di lasciare il territorio nazionale. Dato determinante anche quello dei daspo sportivi emessi 45 rispetto ai 3 emessi l'anno precedente.